Non si dovrà più fare a braccio di ferro tra chi vuole la ciclabile o la ferrovia turistica e non si dovrà scegliere obbligatoriamente tra le due a proposito della tratta ferroviaria dismessa Fano-Urbino, che tanto in passato ha acceso gli animi di politici o di semplici cittadini o nostalgici della linea ferrata. Le due cose, messo nero su bianco, progetto alla mano, potranno diventare una realtà con la ferrovia turistica, come prevede la legge 128 del 2017 e la ciclovia del metauro che verrà realizzata dalla regione Marche in parallelo. Le due strutture conviveranno e saranno parte integrante di una visione di mobilità green regionale, perché la ciclabile non verrà realizzata sopra la linea ferroviaria sacrificandola o smantellandola, ma gli correrà accanto e con un minimo sforzo, dato che utilizzerà il percorso già fatto da rete ferroviaria italiana e comporterà anche pochi espropri e quindi la velocità di realizzazione sarà rapida. Per ora il primo tratto finanziato sarà da Fano fino a Tavernelle, ma è già pronto il progetto di fattibilità per arrivare fino a Fermignano e quindi Urbino. Lo ha annunciato il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, nella conferenza di presentazione del progetto proprio a Colli al Metauro. Quello del Metauro è importante, è un tracciato che permetterà di collegare Fano fino a Urbino, questo è, con anche delle possibilità di fare, come accade in molti posti, anche linee laterali per coprire ancora meglio l'intero territorio. È finanziato per oltre 4 milioni, 16 chilometri di ciclovia che già iniziano a dare l'impronta di un percorso interessante. Grazie al Pedalata Assistita siamo diventati tutti ciclisti, non devi essere per forza Vincenzo Nibari per fare la sedita a Pantani e questo ha allargato di molto l'utilizzabilità di questa struttura. In più, l'ambiente e il clima sono una priorità e creare mobilità sostenibile significa aiutare tutto questo. Ma la forza di questo progetto è che a tutti gli effetti questa ciclabile diventerà una linea urbana, ma anche di servizio, perché attraverserà insediamenti urbani lungo la Flaminia, collegando così tre comuni, Fano, Cartoceto e Colli al Metauro. La ciclovia, una ciclabile, in questo caso interessa direttamente il Comune di Colli al Metauro perché si prevede il primo tratto da Fano a Tavernelle proprio. È chiaro che a me, in quanto sindaco ed amministrazione comunale, non solo interessa, ma faremo di tutto perché si possa concretizzare al più presto possibile, di non perdere i fondi. Già anche prima di oggi abbiamo fatto dei sopralloghi con i nostri tecnici, anche per andare la prossima settimana in quella conferenza di servizio già convocata in Ancona, con qualche idea da parte nostra per capire se ci sono delle situazioni da dover affrontare preventivamente. Quindi abbiamo buone idee e il fatto che le ferrovie stesse abbiano dato un parere positivo purché si salvaguardano i binari, io credo che dovrebbe mettere d'accordo e consentire anche una visione più positiva da parte di chi è a favore della ferrovia.